musica 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 bella ragazzi qui sul mio canale sono qui su fifa15 su foot mi chiamo oggi è un torneo molto importante con i bronzi si con i bronzi ma la cosa che mi fa più eccitare è questo giocatore perchè guardate quanto è veloce cioè fa schifo ma è veloce così io spero che con lui faccia qualche passaggio anche se faccia un po' cagare però vabbè dai vediamo chi vince dai bella vediamo su squadra e olè anche lui come me non sa cosa cazzo fare però dai ci ha provato e vediamo chi vince la mia la sua è un portiere fortissimo è un portiere fortissimo quindi farà un gol me lo sento matavu 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 e stavolta non lo sbaglio e stavolta non lo sbaglio calcio di rigore ed espulsione come sul fallaggio l'arbitro non poteva fare diversamente ma Matavur no Pursic Matavur no perchè Matavur vaffanculo stavolta non lo sbaglio Pursic gol di Pursic due rigori e questa volta non lo sbaglio ma chi non poteva farci nulla ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 Matavur 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 godi Matavur Matavur pure lui quella della città non si scherza Matavur 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 ragazzi compratelo matavur 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 mamma mia ragazzi matavur 3 a 0 matavur 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 Mata VU, Mata VU ! Mata VU ! OLE !! OLE ! Mata VU ! Vai Mata VU, Mata VU ! Mata VU ! MATA VU ! ancora lui matavu ancora lui rifletta di matavu e di patatoni vado a fare guarda qui guarda qui ma 4 1 matavu no ragazzi matavu è perfetto è un giocatore da non sono stato stato volutarsi perchè veramente è un giocatore stupendo matavu ancora lui guarda questo stronzo cosa vuoi fare cosa vuoi fare tu a me ti faccio questo e questo e questo no me l'ha presa bastardo ahhh no voi fareste cazzate in queste partite siamo giocatela non giocatela più qui tre prima ha recuperato il pallone senza difficoltà buon recupero possono ricominciare ecco il team matavuuu matavuuu sempre lui sempre lui matavuuu ne manco sempre di più matavuuu no ragazzi io mi lo sento matavuuu vai formella 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 no no matavuuu matavuuu pocherissimo pocherissimo di matavuuu 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 oddio matavuuu matavuuu ragazzi matavuuu gogo matavuuu matavuuu 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 12 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 tantissimo tantissimo olè Brutic anche lui doppietta guardate qua mi spiace la paletta è rientrata in spot a vostra 8-1 fatti pure 8 gol oh my god non ci credo che sono le spaccare i giorni che mi sa non giocherà più con la bronzo e io si perchè la bronzo mi piace dai abitro falli finire così 8-1 in 9 li ho massacrati e non è compiute ragazzi è online eh è online ragazzi guardate qua anche lui anche lui fornella anche lui pagatone mamma mia ragazzi 9-1 9-1 ragazzi 9-1 ragazzi questa è una partita da rivedere tutta 9-1 ragazzi di guadagnare sono è chi ci vediamo al prossimo video per chi piace e vi porteremo altri video di questo bellissimo torneo cioè di vincere meno il torneo così meno qualcosa che ti mi puoi tracare dai da te ci vediamo al prossimo video bella Show Ballet!